Questi giovani, no, io dico questi giovani, no, secondo te la fase corteggiamento è cambiata? Sono bravi come eravamo bravi noi? Tu sei un ragazzino, confronto a me, però... Una volta, beh, diciamo sì, sono molto più sul web, secondo me i primi contatti nascono lì e poi, se è un po' sullo stomaco, si incontrano fuori. Sto incontrando magari qua? Tante chat, anche qua li vedo i ragazzi, chatano in pieno con il telefonino, internet. Tanto chat, cioè magari passa la più bella ragazza del mondo, ma loro sono talmente presi dalla... Ci sono, guarda, abbiamo proprio, si parlava l'altro giorno, tavoli di 5-6 ragazzi, sono tutti lì, con questo telefonino, buh, giù a scriversi. Ma potrebbe capitare una scena del genere, c'è una ragazza bellissima che viene incontro, la ragazza, e dice, ehi, volevo con... scusa un attimo, sto corteggiando. Devo mandare un... Beh, ragazzi, chatate meno, venite a bere un caffè. Esatto.